Che è sta monnezza? Che è sta monnezza? Questa te la bevi tu e tre quarti dalla palazzina tua. Vattene, vattene, sbrigate pure. Ma guardate. E che sto a fare? Sto a fare a poter piatto? Eh, lo vedo che sta a fare a poter piatto, ma perché? E la devo mettere su Instagram. Non lo vedrebbe chiunque che Luigi sono io, no. Non è lui, io sono il vero Luigi. Sono io, Luigi. Andiamo al circolo. Signor Magali, per favore, basta un... Luca, non fare il cretino, sono io Luigi. Sono io il vero Luigi. Fa la ganna, sì. E vai. E se ti risponde, tu li hai riscritti. E aspetti e vedi se ti risponde un'altra volta. E se questa mi risponde un'altra volta? Mi iscrivetevi. Vabbè, sì, ma sta cosa funziona. E secondo te come ho fatto a scopare, tu madre? Ma che pare che mi devo studiare un'arte della guerra per scopare, ragazzi? No, no! Sto cazzo di televisore, nonna! Nonna Mariccia! Aspetta un attimo. Pronto? Che cosa abbiamo fatto ieri sera, porra? Sì. Svegliato in un sottomanino tedesco. Dimmi dove stai. Adesso, guarda, non è proprio il momento. Dimmi che stai. Un attimo perché... Abbiamo scritto cerchiamo una persona tranquilla, affidabile, perché non faccio tanto casino. Per vedere gli spazi comuni vanno tenuti bene, precisi e puliti. Di aree condivise vanno un attimo al studio. In casa ne vanno anche un attimo al minimo. Tu ci vedi col pallone che sembriamo delle persone. Invece sono delle persone serie, precisi. Poi te la faccio vedere perché è stata molto carina. Se vuoi te la faccio vedere perché è stata molto carina. Poi te la faccio vedere perché è stata molto carina. Poi te la faccio vedere. Poi te la faccio vedere. Grazie.